Preghiera della Sera Donaci, O Padre, di iniziare questo itinerario quaresimale accompagnati dal Tuo Santo Spirito. Suscita in noi una vera fame e sete della Tua sapienza, perché ci nutriamo di ogni parola che esce dalla Tua bocca. Aiutaci a recuperare pienamente il senso penitenziale e battesimale della vita cristiana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.